Il messo è andato Il numero 17, Carlo Colini Il numero 7, Alex Laposta Il numero 20, LF Martelli Il numero 11, Michele Cosi Il numero 8, Fabio Pierini Il numero 27, Amira Lucrez Il numero 10, Simone Parenti Il numero 11, Alex Moitano Allora, Domenico, Aspen, Aspinani Il numero 7, Michele Cosi Dai, Michele, dai! Dove l'anno pure toccato? Adesso, guarda una caramella Il numero 8, Michele Cosi Il numero 8, Michele Cosi Non è che il numero 8, Michele Cosi Il numero 8, Michele Cosi Non è veramente olanda è troppo bello Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti